bella ragazzi bentornati siamo su trove allora ho alzato un po il power rank come vedete sono a 1334 piano piano sto alzando che quello ho fatto alcune modifiche alla casa alcune un bel po allora cosa posso far vedere facciamo vedere prima l'interno qua è rimasto pressoché uguale qua ho fatto scendere una fontana che poi entra all'interno della casa e scende giù dietro alla vetrata e anche dietro gli scalini vetrati così e fa tipo una cascata qua sotto lì ci ho messo una una luce a neon di neon city funghetto c'era già cosa c'è qua sotto che sotto ma non c'è niente sì qua c'è la cascata che vedevate lassù sotto non è che ho modificato tantissimo adesso vi faccio vedere invece l'esterno perché ho implementato alcune cose allora questa diciamo la torre diciamo la torre per spiccare il volo attriamo ecco che mi sono bloccato ovviamente cosa è successo fuori ho costruito un percorso per il mag rider adesso lo proviamo ops allora partiamo sbagliati tipo perché così devo testare se funziona tutto tac si gira e parte a direzione giusta ho messo anche alcuni salti tipo questo piccolo salto piccolo salto grande salto ok e questa l'abbiamo provata qui ho fatto una fontana che cade nooo ho piantato gli steed feed e ci sono montato sopra con la mount sarò pirla devo ripiantarlo sono proprio passato sopra con un pirla tac solo due ecco queste sono le modifiche che ho fatte ok adesso cosa volevo fare ce ne andiamo qua sopra avremo in mente ho già in mente di fare ho già in mente un altro progetto cosa c'ha che non funziona no ho già in mente di fare una cosa l'acqua park con la barca allora andiamo a farci un giro in 5 qui saliamo 4 v5 dove andiamo ah siccome devo farmare sempre di buone di blitz e buone me ne vado qua ecco già lì ne vedo uno livello 21 ho fatto piano piano sciavanza allora qua chiama qua chiama qua no chiama qua oh e qui affambrado chiama oh mi fanno malissimo mi sa che ho cambiato ho cambiato qualcosina perchè fino all'altro giorno non c'è allora andiamo di là che c'è anche una pergamela da prendere ecco qui qui diretto ma begnuno inizia, ha fatto malissimo di intrattenere l'anara vediamo cosa ma... ma dato basalt pavine andiamo andiamo andiamo, andiamo di qua intanto controlliamo Bleached Bane golden soul, prendiamolo andiamo non c'è niente in questa zona che non me ne faccio ci sono attiri al suo non c'è voglia qua facciamo non c'è No, qui l'altro. Allora andiamo nell'altro che è qua. Allora andiamo. Channel. Allora andiamo. Vabbè catturare un piccolo lanciare. Ok. 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 Ecco. Mi servirebbero i cristalli. Gli Empowered mi mancano. E quelli danno un botto di Power Rank. E' che non me li droppa. Ok. Tanto faccio la casa perchè mi prendo un po' di pozze qua. Anzi potrei prendere anche le superveloce celle in volo. Ecco. Funziona ovviamente. Ok. Cavoli c'era la pergamena. Pergamena... Mi stizza perchè ultimamente... Sono indietro a farmi la casetta, le minchiate... E allora se c'ho qualche oggetto nuovo da mettere... Ce lo metto. Guardate che ho visto... Due Bleached. Uno. E due. Tendiamo dieci e facciamo la pergamena. Uuuulà. Uuuulà. Jump jump. Inizio sono soltanto intritto nella lamp. Inizio sono soltanto intritto nella lamp. Inizio sono soltanto è solo soledetto. Reppha Diamo cosa m'adatto. Large stalactite non è che me ne faccio tanto però allora andiamo qua c'è entrata l'entrata l'entrata poco buco 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 altro buco eccolo non voglio un salto lungo non me lo fa, non voglio un salto corto o me lo fa lungo via nooo mi sono incastrato morto vabbè dove sono morto qua a fianco andiamo dov'essere questo si come cavolo ho fatto porca puttana vabbè la vendetta c'è ma come cavolo è possibile due volte di fila eh no e ci riproviamo non posso lasciarlo così deve crepare perdo perdo tutto il magic find che ci riproviamo che ci riproviamo che ci riproviamo molto c'è che ci riproviamo ma che altro? Vaffanculo! Andiamo giù qua, facciamo questa torre anche se potevo risalire dall'altra. Va bene. Allora i qubits li abbiamo finiti. Arco cane. Ecco il dungeon che non so fare, non so ne ho capito un cavolo di quel dungeon. Andiamo se troviamo un glitch, un glitch ed eccone uno lì, no. Eccone uno qua. Qua ce ne sono tre. Quattro, hanno visto? Uno, due, tre. Allora, ce ne hanno anche due, cazzo, quasi quasi una fune. Vai li prendo tutti questo. se non ho uno, ancora ne ho uno lì, e uno anche per terra, va finito, boh, non lo vedo più a stronzo crepa come sto messo a zaino? c'ho ancora spazio per quello eeeh glitched andiamo 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 con questo sono così ok, non ho anche un sce, no, non ho anche un shadow che questi qua solo ho già Ok. Quanto ne ha di bone? 177. Speriamo che ne seguono un botto. Allora, andiamo qua, che c'è una torna. Quante scelte. Quante scelte. I pistrelli di merda. Ci sono due pistrelli e due aprile. Ok. Ci prendiamo i nostri Qubits giornalieri. Questi non ne sono uscite. Torniamo a Lube. Guardate gente. Bene ragazzi, vi saluto. Ci vediamo alla prossima. Lasciate un like, mi raccomando. E iscrivetevi al canale. Ciao da IbisMoke.